Ecco qua, ecco con le pizze del Piemonte, si deve avvicinare, si deve avvicinare, una pizza molto levitata, bianca con le patate e le sede, e poi c'è la mia assistente che è riuscita a mettere i pomodorini freschi e la truga, con dita, con olio e salto, andiamo a vedere com'è la cocculetta, ecco venite. E chiediamo al nostro amico Fabio qual è il segreto della tua pizza, Fabio qual è il segreto della tua pizza? La mia pizza come segreto è un segreto, perché bisogna fare, è un lavoro ma bisogna farlo con passione, sicuramente è molta molta passione, è anche molto sorriso, anche perché è un lavoro pesante, caldo. Stasera ci sono 26 gradi, lontanissimo dal forno, non vi dico vicino al forno, che temperatura arriviamo. Qui ho saputo che sono venute moltissime persone, perché voi siete stati molto simpatici, avete dato da mangiare, avete spammato anche tutto lo staff. Infatti io sono il presidente di un'associazione che si chiama Roberto Dei, la via del sorriso, non a caso, quindi lavoriamo col sorriso e per il sorriso. Infatti adesso stiamo regalando le pizze al nostro amico dell'Humanitas e supporto del 118 per la manifestazione. Quindi la pizza ancora non importa di più, il valore che va di là del cibo, ma è un valore morale sociale. Ciao, ciao! Il valore morale è anche sociale, quindi noi siamo pronti a tutto questo. Grazie. È stato un piacere.